Programmi di finanziamento a Termoli, il Movimento 5 Stelle ha presentato Europa Creativa ed Europa per i Cittadini. La cultura ti finanzia il titolo del workshop gratuito promosso dal Movimento 5 Stelle alla Galleria Civica di Arte Contemporanea di Termoli. Vediamo. Europa Creativa ed Europa per i Cittadini sono i due programmi di finanziamento europeo presentati ieri a Termoli per iniziativa della eurodeputata del Movimento 5 Stelle Isabella Adinolfi della Commissione Cultura del Parlamento di Strasburgo e presente all'incontro dal titolo La Cultura ti finanzia, un workshop gratuito per operatori del settore. Alla Galleria Civica di Arte Contemporanea sono intervenuti anche tecnici del Ministero dei Beni Culturali ed esperti in europrogettazione, la realizzazione di progetti in grado di avvalersi dei fondi dell'Unione Europea. Europa Creativa è un programma quadro di 1 miliardo 460 milioni di euro rivolto a produzione culturale e informativa, dunque anche audiovisivi, finalizzato a rafforzare la capacità del settore culturale e creativo di operare a livello transnazionale, promuovendo la circolazione di opere e operatori e la cooperazione politica tra i vari paesi. In Italia è coordinato dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo insieme all'Istituto Luce di Cine Città. L'iniziativa, voluta dai 5 Stelle, mira a mettere operatori e giovani interessati in condizione di conoscere bandi europei e di presentare progetti adeguati per accedere ai fondi. Io vengo da una regione del sud, sono una laureata in conservazione dei beni culturali e come tanti altri laureati che vogliono accedere al mondo del lavoro per quanto riguarda l'industria culturale e creativa, ha dei problemi. Quando sono diventata parlamentare mi sono resa conto che ci sono invece tantissime opportunità, tantissimi fondi che possono essere utilizzati in questo campo e che possono creare dei posti di lavoro, delle occasioni di sviluppo, occasioni di crescita per i ragazzi. Discorso analogo per il progetto Europa per i cittadini che finanzia iniziative volte a favorire la cittadinanza europea attiva, a sostenere conoscenza e comprensione dell'Unione Europea e la storia da cui proviene.